Partirà l'8 ottobre al Technovool Rugby Park di Muraglia contro il Petrarca Padova il campionato di Serie A 2023-2024 della Fiorini Pesaro Rugby. A due settimane dal via del torneo i Kiwi giallorossi hanno presentato squadre staff tecnico al cospetto di tifosi molto speciali, ovvero gli amici di Santa Colomba il cui consorzio sostiene da anni la palla ovale pesarese e che al contempo vede gli stessi regbisti protagonisti di attività ricreative alla residenza per anziani. E' in questo contesto particolare che riparte una Pesaro Rugby che mescola con ferme e rinforzi al cospetto di un girone di Serie A completamente differente dai precedenti. La Serie A in Italia è organizzata in tre gironi territoriali e per la prima volta nella nostra storia quest'anno siamo stati inseriti nel girone nord-est. Un girone molto particolare e anche molto insidioso. Avremo 11 trasferte di cui 10 in Veneto perché sono 10 le squadre venete della regione Veneto che compongono questo girone. L'undicesima è Viadana in provincia di Manto quindi lì vicino al Veneto e poi ci siamo noi che siamo la squadra molto più a sud di questa realtà, i più esotici e costituiamo una grande novità così come per noi è una grandissima novità andare a incontrare tutta questa realtà. Siamo molto incuriositi, ci sono i giocatori, i tecnici, tutto il nostro mondo, chi ci segue perché in quest'area c'è il distretto più importante del rugby italiano, quello Veneto e quindi una realtà che il rugby lo conosce e sa come affrontare le sfide che il livello presenta. Di conseguenza abbiamo dovuto anche rafforzare gli organici per affrontare un campionato sicuramente più competitivo degli anni trascorsi e che vorremmo comunque, dove vorremmo ben figurare ugualmente. Sicuramente dovremo cercare di aumentare il ritmo dei minuti giocati a rugby, sappiamo che il girone Veneto qualitativamente è un po' più alto rispetto al girone sud che affrontavamo l'anno scorso quindi dovremo cercare di riuscire a reagire più velocemente a quello che ci troviamo di fronte. Affrontiamo squadre che non abbiamo mai incontrato, quindi è un po' tutto nuovo per noi, però ci stiamo preparando bene. La società quest'anno ha fatto uno sforzo maggiore per dare agli allenatori una squadra più competitiva rispetto all'anno scorso. I nuovi acquisti sono acquisti di valore, le conferme, comunque abbiamo tenuto giocatori che la scorsa stagione si sono comportati molto bene. C'è il giusto mix per fare un buon lavoro, anche se il campionato che andiamo ad affrontare è un campionato diverso che non conosciamo, però i presupposti sono buoni. Proprio Villarosa sabato si è presentato in doppia veste di capitano della Pesaro Rugby per il settimo anno e di coordinatore infermieristico della Residenza per Anziani, i cui ospiti hanno incitato la partenza della stagione dei Kiwi in un plauso al connubio fra pallo ovale e sostegno sociale, sottolineato anche dagli assessori Pandolfi, della Dora e dal consigliere regionale Biancani. Veniamo tutti gli anni, ormai da diversi anni, a festeggiare l'epifania con i ragazzi, creando un momento molto piacevole per la struttura e per gli ospiti. I responsabili della struttura ci hanno chiesto un maggior coinvolgimento e quest'anno abbiamo deciso di partire proprio con la presentazione del campionato a casa loro e siamo molto soddisfatti di questa cosa, lo sono anche i nostri sponsor delle iniziative sociali che attiviamo. È iniziato questo percorso dove i ragazzi una o due volte all'anno vengono a trovare i nostri cari, fanno attività con loro, insomma rinomata la Befana con la squadra di Pesaro Rugby e niente, si attivano queste attività. La rete è molto forte perché comunque anche noi come consorzio rispettiamo molto l'accoglienza, tutti i valori che comunque anche nel rugby vengono poi portati avanti, di unione, di fidelizzazione, di fedeltà, di rispetto reciproco e quindi questa cosa è molto importante. Non ultima, dopo il Covid il consorzio ha voluto fare un investimento in una figura professionale infermieristica, un coordinatore infermieristico che abbiamo scoperto poi essere Carlo Virlarosa, il capitano della squadra di rugby quindi in una situazione molto occasionale è arrivata anche questa ulteriore unione con la squadra.